Da oltre 50 anni sfidiamo noi stessi nella meccanica di precisione, affiancandoci alla complessità di industrie soddisfatte soltanto dall'eccellenza. Tra i primi a intuire il potenziale della stampa 3D industriale, abbiamo sperimentato un nuovo modo di pensare e di produrre, distinguendoci come l'azienda italiana che spinge al limite la tecnologia additiva per realizzare elementi critici e funzionali. Due stabilimenti produttivi, oltre 25 impianti di classe industriale per la realizzazione di elementi funzionali in additivo, moderni centri di lavoro CNC 5 assi, una struttura autosufficiente e in costante sviluppo, con lo scopo di garantire la massima riservatezza e il più veloce time to market. Un intero reparto dedicato al controllo qualità e al collaudo, una sala metrologica per la verifica dimensionale, due reparti per la finitura manuale e un centro ricerca e sviluppo interno dedicato alla parametrizzazione di nuove veghe. da pionieri della stampa 3D a industria della produzione additiva. Zare è oggi una moderna fabbrica, che offre competenze, impianti e servizi ai progettisti più esigenti e innovativi, grazie a un insieme di tecnologie, in grado di lavorare oltre 60 materiali differenti. La squadra è composta da personale qualificato e tecnici specializzati in ogni fase del processo, per garantire al cliente il rispetto dei tempi, del disegno e dei parametri prestazionali richiesti. Zare, la fabbrica dedicata alla produzione additiva. Grazie a tutti.